Ehi ho signori, buongiorno, quanto tempo, quanto tempo è passato da quando non ho fatto più video cioè nel senso da quanto tempo non ho fatto più video da mettere su youtube come per esempio in questo momento mi è venuto in mente di fare il video perché è l'onomastico di tutti quelli che portano il mio nome come per esempio il grande Simon Sironi che adesso lui ringrazierà degli auguri che gli faccio e che mi scambio a vicenda con lui vai Simon beh io ti ringrazio tantissimo Simo per gli auguri che mi stai facendo e le ricambio pure io con te a modde cosa reciproca come la stessa cosa con l'altro Simone, Simone il calcagno non nel senso che io ho dato un nome alla mia parte del corpo però nel senso che questo ragazzo si chiama di cognome calcagno, è Gianni l'attore Simo io ti ringrazio, grazie mille per gli auguri che mi stai facendo e ricambio anche io gli auguri dell'onomastico con te e auguri a tutti i Simoni del mondo vai Kiko, li fai pure te gli auguri a noi beh tante grazie, grazie per avermi coinvolto Simo e tantissimi auguri di buono nomastico sia a te che a Simon Sironi che a Simone Calcagno e a tutti i Simoni del mondo adesso lo dico anche io grazie, grazie mille pure a me per gli auguri che mi state facendo al grande Simone Faciello con una crisi di identità in questo momento pure Simone Ciulli nella crisi di identità perché sta facendo un sacco di persone adesso diamo pure la parola al grande Roberto Presaresi uno degli uomini che non ha mai bisogno del parrucchiere vai Robè, vuoi venire dal parrucchiere con me? che battute, come sei spiritoso, come siete spiritosi tutti quelli che portano questo nome sono tutti spiritosi comunque il carissimo Roberto Presaresi ti fa tantissimi auguri sia a te che a tutti i Simoni del mondo pure a quelli che non si comportano bene, i Simoni però l'importante è l'amore ed è raro che una persona faccia auguri dell'onomastico e che festeggi l'onomastico auguri a tutti i Simoni del mondo, al grande Roberto ora non mi ricordo più qual è il giorno del mioonomastico però attendo gli auguri pure io e per tutti gli altri Roberti che ci stanno grazie mille anche per avermi identificato come l'uomo che non ha mai bisogno del parrucchiere invece voi purtroppo dovete dormire con cautela dovete stare attenti alle ventate quando vengono le ventate che vi scarruffano tutti vabbè, vada le cianci, grazie a tutti e grazie mille cuartesimo per avermi coinvolto nel tuo video niente Roby io ringrazio tutti degli auguri e buononomastico anche da parte mia dagli altri omonimi e buon divertimento